E bello a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in un nuovo video Allora, oggi come ultimo video, prima delle vacanze fino al 10 agosto Perché, se non avete visto il video di ieri, andatelo a guardare In pratica mi sono preso le vacanze da Youtube fino al 10 agosto Ehm... Come ultimo video, ho deciso di portarvi una video-reazione alla canzone Papel Gay Ma però, prima di iniziare, voletevi di iscriversi al canale, attivare la campanella e lasciare un bellissimo like a questo video Noi perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo Ho sbagliato il video Eccolo qua Ah, però, per ogni video-reazione che si rispetti Ok, mettiamo qua e via Inizia il bello Papel Gay Papel Gay E' da notare che però, quel laghetto è una bomba nucleare Perché vedete qua, qua c'è tipo l'esplosione che ha fatto la paperella che è caduta nell'acqua Inizia proprio male questa cosa Cioè, in te ne sembra una canzone d'amore Cioè, tu non sai che dopo si trasformerà in paperella gay? Cioè, sembra una canzone d'amore Cioè, sembra più che altro paperella gay Ma però, stiamo a vedere Allora, allora Se l'estate è calda, in che senso? Un'estate è calda, un brivido ferreddo In che sen... Sulle palle Ecco, si sta trasformando, ragazzi, si sta trasformando Oddio, si sta per trasformare Si sta trasformando Si sta trasformando Oddio, oddio, si sta trasformando Si sta trasformando Si sta trasformando Vorresti il pene ma becchi il pane Allora, ragazzi Ora noi dovremmo schizzare subito dall'odorino Perché se ho capito, ha detto Bene, vorresti il pene ma becchi il pane Sì, risentiamo Spero di aver sentito male, raga Spero di aver sentito male No, non ho sentito male Non ho sentito male Ha detto, però, vorresti il pene ma becchi il pane Cioè, porca trota Cioè, no, vabbè Allora Prima dice Ma io non ho capito una cosa, eh Chi è che vuole il pene? Cioè, prima lei vuole il pene E poi E poi lui che gli dice Sei l'uccello che vorrei Trash Merda E ancora Continua ancora Vorresti il pene ma becchi il pane E vabbè, abbiamo capito Il pene ma becchi il pane Y O il mio uccellaccio Oddio Prima dicevo Reste il vero e vabbè che pane Mo non vuoi il mio uccellaccio Io ovviamente ho capito che vuol dire Però non lo dico Non lo dico che cos'è Like se avete capito anche voi Io ho capito che cos'è Ancora pensando come rompere il ghiaccio Peppa Pig Peppa Pig Paperella gay No 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 Prima sembrava una canzone d'amore Cioè tu eri la tutta sola Poi paperella gay Ma che c'entra paperella gay Quindi ho tirato fuori il mais O vado con lo spaccio Ah lui spaccio il mais Oh Ti spaccio il terreno di maestro Ravio Perché? 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 Becchi sulla strada Saltelli sulla riva Sei proprio sensuale Mi piace Ti giri Sei proprio sen Sei proprio sen Un bambino di maestro Nella mia testa scoppiano in petardi Nel vostro amore Mi è beccato il cuore Tutta sola Guardavi l'alba Leggera prezza Un'estate calda Un brivido freddo Sulla pelle Ormai sera Fra mille stelle Fra mille stelle Fra mille stelle Allora Lui ha fatto Vaffanculo alle galline Ora ha fatto vaffanculo Alle pecore Perché vuole solo la papilla e la gay Perché dobbiamo mettere Proprio queste cose Io ho capito che cosa vuol dire l'uccellaccio Ho capito E' quello E' quello Però non lo dico Perché se no Youtube piglia Banna il video Mi dà il pollino giallo E io chiudi il canale Io però ho capito che cosa vuol dire Non vuol il mio uccellaccio E l'ho capito che cos'è questo uccellaccio Ti vendo un chiamato di maestro Spaccio Spaccio Poi Scaccio E adesso Poi vi hanno capito Papala gay Papala gay Papala gay Sulle mille stelle E un brividio freddo Per risolvere i nostri problemi Faremo questo Faremo questo Per risolvere i nostri problemi risolvere i miei nostri problemi così abbiamo capito che papirella c'è l'uccello che vorrei papirella c'è l'uccello che vorrei un petito freddo, un'estate calda non vuoi il mio uccellaccio fine condividi l'uccello con i tuoi amici col cavolo che mando questa canzone ai miei amici comunque per fare una bella cosa ok perché ho capito che cosa vuole che vuol dire l'uccellaccio e niente ragazzi spero che come ultimo video prima delle mie vacanze di riposo di youtube questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanellina da Pietro papirella gay papirella gay ciao ragazzi papirella gay 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 papirellailla gay papirella gay tau appirella gay hai rethink mi katt il mio katt con i tuoi altri Perchè non stacco mai bene la registrazione? Ciao ragazzi ma perchè non la stacco mai bene, qualche volta farò una brutta figura Oh no